Ciao raga, un brevissimo video per invitarvi venerdì 15 aprile, quindi tra pochissimi giorni, ad un raduno che sarà una festa veramente super mega fighissima, è il raduno di scherzi di coppia. Il primo raduno, loro sono grandi amici, hanno partecipato anche al video di Stay With Me, alla campagna sociale che era legata al video Togliti la maschera e fai della tua vita un viaggio straordinario. Siamo amici da tantissimo tempo, loro pensate hanno raggiunto ben 250.000 follower su YouTube e quindi direi che è il caso di festeggiare e soprattutto di festeggiarli. Hanno invitato me ma anche tantissimi altri YouTuber, non so, mi viene in mente Spink che anche lei è una carissima amica, mi viene in mente i The Dopes che si sono riuniti e che io adoro e conosco fin dai tempi, dei tempi, dei tempi. Quindi insomma saremo lì tutti insieme a festeggiare Katia e Luca ma soprattutto a incontrare voi. Per cui se volete venire a questo raduno, incontrarci, incontrarmi, farvi le foto, farci le foto in realtà, abbracciarci e scambiarci qualche parola, anche perché la posizione di chi fa video come me è che voi mi conoscete ma io non so chi siete voi e mi piacerebbe invece tantissimo conoscervi e insomma sapere chi siete. Per cui venerdì 15 aprile è di pomeriggio alle 14.30, se non mi sbaglio 14.30, 15. Io ovviamente sarò lì in piena forma, verrà con me anche Mr. X, dato che mi chiedete tutti chi è Mr. X, chi è Mr. X, ve lo presenterò a chi viene lì, lo presento e vloggerò per cui insomma potreste finire in un vlog e insomma faremo tante cose incredibili, ci sarà un gruppo che suona. Vi metto nell'info box il link all'evento così potete vedere tutto quello che ci sarà all'interno della giornata. È ben strutturata, ben organizzata come festa perché addirittura poi mi pare verso le 6 inizierà la discoteca silenziosa, sapete quella che si mettono le cuffie e poi uno balla, però la musica fuori non si sente, insomma una figata. Il locale lo conosco perché ho già partecipato ad altri eventi in questo locale, si chiama RAL 8022 ed è in via Corsico 3 a Milano che è in zona Porta Genova, Navigli. Per cui insomma questo è l'invito, io mi auguro che voi partecipiate in tantissimi, iscrivetevi all'evento Facebook per essere aggiornati insomma di chi parteciperà, chi non parteciperà eccetera. Vi mando il solito bacio e tantissimo tantissimo amore, vi aspetto venerdì. Ciao! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.